Barbara Lanzoni, diocesi faenza modigliana. Sono a Firenze e spero per essere parte di un cambiamento, quindi per essere parte di quello che potrà essere una scintilla di cambiamento per la Chiesa. Penso in direzione di, speriamo, un nuovo umanesimo, credo che ce ne sia parecchio bisogno, quindi non sono pienamente consapevole di quello che succederà, penso che sia una cosa più grande di me, però mi sento così, un piccolo pezzo di questo puzzle che speriamo sia solo l'inizio di un lungo cammino per la Chiesa.